Allora, nella parte finale io ho con me alcuni ospiti. Il primo che volevo invitare sul palco è il mio grandissimo amico Sergio Ciccoli alla batteria dei Miscala Mercari. Allora, che vi dico? Il primo ospite che prenderà questo microfono farà volare, aleggiare questo locale nei meantri di questo cielo cumpleo, non so se sta piovendo lì, ma in Roma non poteva che essere per me il più grande, Mordi! Ciao ragazzi! Speriamo, va! 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 grazie ciao a tutti